... Dicevamo che poi questi concorsi sono una vetrina, ma anche delle opportunità che si trasformano poi in lavoro, set fotografici, magari ruoli anche nelle fiction, nei film. Certo, è così. Per me il concorso di bellezza è solamente un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Dal concorso di bellezza nascono delle relazioni importanti con chi c'è dietro, genitori, imprenditori, sponsor, eccetera. Ma ci sono anche le possibilità di scegliere dei volti nuovi, che oltre ad essere belle per la moda e pronte per le grandi vetrine, le sfilate, le grandi passarelle come Pitti, eccetera, sono anche magari interessanti i personaggi per portare nel mondo del cinema e della televisione. E qui ne abbiamo un esempio. Tu cosa ti aspetti da questo concorso? Spero che mi abra tanto le porte nel mondo della moda, sulle passarelle e tutto. Sai che poi c'è tanto studio, tanto lavoro, tanta passione? Sì, lo so, ho già fatto alcuni corsi di portamento per tanto tempo, quindi so cosa vuol dire. Sai cosa significa che c'è dietro? Perché molte volte Gennaro appare questo mondo dorato, ma in realtà ci sono tanti sacrifici anche dei genitori, della famiglia, ore di studio. Certo, è una cosa importante che questo mondo si ti colloca sulle passarelle, come dice la ragazza qui accanto a me, però io dico sempre ragazze, la moda è un po' una meteora, come una meteora che cade improvvisamente e quindi c'è bisogno di impegnarsi in alto, cercare di spaziare. In che modo? In 160 gradi. In 160 gradi, magari guardando, recitazione, sempre recitazione, chi fa l'attrice può arrivare anche a 90 anni ancora a recitare. Ovviamente sì, un omaggio alla nostra bellissima Sofia Loren. Infatti, vediamo che è partita delle passerelle per arrivare poi. E' questo che la signorina qui Carolina, io sto dicendo da qualche giorno. Tu come produzione cinematografica puoi scegliere effettivamente dai concorsi persone che poi si approcciano meglio magari nel ruolo da protagonista o da coprotagonista nei film che stai producendo. Ho un in bocca al lupo e anche a te per i tuoi progetti, per il tuo concorso e dalla postazione del backstage io direi di far partire il concorso Miss Moda domani e vinca la più bella ma soprattutto la più brava. Grazie. 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 Grazie.